e in qualche modo voi gli avete fatto fare un casino di pressioni lui ci si dava, stava con caprone, e tutti a ridere, no? e ci dicevamo, ma capo non devi che ti prendono, cioè, fai la figura del poverino ma era Edo che li faceva, ma Edo che sta a tre, eh? Edo fa più saldo, ma chi è stato a Giulio, fa che le faccio? l'ho fatto una volta, era Giulio, lo montava su, non ho capito? lo semestava proprio, con pochi, imbollino il cervello, doveva fare queste cose e l'ho fatto di ferro con Giulio, che si era incansato e lui va in sera con la sua strada, Giulio non lo batte nessuno e d'oppressione, Edo ha pressioni, ma Giulio va a fine vita ma anche contro Giorgio, che c'eri? ha vinto una volta sul buco, o alla cosa, al buco? da Armando, da Copco, da Copco hai visto contro Giorgio? contro Giorgio, andavo in colette con un uomo e l'ultima volta che ho venuto qua, mi ricordo che ho fatto vedere un video che ho il telefono della Gallina mi devo guardare la sua gallina gasp dai dai, come hai visto? che è il tuo figlio? ahahahah è vero? è vero? è il galettinburghese No, lui aveva dei galletti strani, dei incroci strani che... ...che vivevano sulle piante, sulle piante. Quei pezzi, lui, così. No, non so. Però quando gli racconti qua, d'altro, i galletti erano buoni. ...buniti. E' un fardino era buoni. ...e' un fardino era buoni. Beh, ne so, era un fardino del gallo. ...e' un fardino del gallo. ...e' un mario gallo. ...e' comunque giusto, è proprio lo spettacolo. Peccato che... ...e' avviato il cambio, il casamento, il fardino... ...e' avvicinato, a maggio va... ...per vedere, tradato, ora mi vede... ...perchè la scuola, con l'automusina veniva. ...e' rappresentante, esatto. ...e' rappresentante? ...maticamente non sta a parlare. ...e' un fardino, non si sa esprimere. ...e' fatto il rappresentante. ...e' verità, che prendete poco sesso, ...e' tutto fa con un fardo, ...c'è tutti gli avvicinati, ...e' allora erano gli avvicinati, ...e' con un fardino, Paolo, ...ne', un altro, ...e' dalla... ...e' dopo l'ariazio, ...a parte del giù giù. ...e' non mi addolamento, ...e' spinta l'autobusse di acqua. ...e' ritorno. ...e' a pusha e' perga, ...e' a pusha e' schiena per la merda! ...e' a pusha e' vera! ...e' a pusha e' richiesta con la merda! ...e' a pusha e' richiesta con la merda! è vero la scusa no ma a parte di tutti la vittima me mi sale l'acqua perché la mezza è pesante la figlia è questa cosa succede vedo perde il padellino no il padellino che perde esce l'acqua si incende tutto si incende tutto forse